E' tornato nel Regino un appuntamento classico ed irrinunciabile con le mitiche vetture di Maranello, protagoniste assolute. Il raduno dei partecipanti con le loro Ferrari ha registrato una sosta sul lungomare di Locri a seguire il trasferimento verso lo splendido borgo collinare di Girace. Poi il pranzo a Rocella Ionica ed un pomeriggio di convivialità per poi concedersi una serata nella dirimpettaia cittadina di Gioiosa Ionica. Special guest di questa giornata in rosso il Regino Mauro Apicella, dirigente del club Ferrari di tutto il mondo. Il memoria Luca Zerilli, le Ferrari in Calabria, è solo l'ultimo di una lunga serie di eventi di elevato spessore che i due scuderie Ferrari Club di Catanzaro e Reggio Calabria hanno organizzato insieme nell'ultimo decennio. Gello di un rapporto di stima e coesione consolidatosi nel tempo attraverso la comune passione per la Ferrari e per il proprio territorio, declinata attraverso un'attività associativa stabile lungo tutto l'anno solare. Questo è il diciassettesimo meeting in Calabria, sedicesimo Memorial Luca Zerilli, un evento dello scuderie Ferrari Club di Catanzaro. E noi da quest'anno ci pregiamo di poter dare supporto e coordinare in sinergia quello che è stata la diciassettesima edizione di questo stupendo evento. Bellissima manifestazione, bellissima partecipazione della popolazione sia a Logri sia a Girace, anche ieri abbiamo fatto una passata generosa ionica, anche tanta gente, e anche Rocella Ioni, comunque una bella manifestazione che spero si possa ripetere negli altri anni.